Allora Conte ha appena finito di parlare e ci sono in pochi istanti vorrei dire quelle cose che abbiamo colto da questo primo intervento inusuale di Conte. Conte ha dato un ultimatum, dicono i giornali, in realtà ha sfidato, a volere essere gentili, i suoi due vice premier Salvini e Di Maio. La loro campagna elettorale, non me l'aspettavo, sarebbe stata così difficile per questo governo e d'altronde ha certificato quello che tutti quanti noi dicevamo con un po' di malizia durante la campagna elettorale che si davano botte da orbi. Poi ha fatto un elenco delle cose, un libro dei sogni di questo governo che per l'altro è esattamente il libro dei sogni del contratto di governo ma su questo non entreremo, un solo caso ve lo faccio per tutti è quello della TAV in cui Conte questa sera ha sostanzialmente detto io non la vorrei fare però siamo vincolati a delle norme europee, dei contratti europei, cercheremo di cambiarli ma se non li cambiamo insomma la dovremo fare la TAV. Lo stesso modello che si è utilizzato ovviamente per l'ILVA che avevano detto che non la volevano più avere e poi l'hanno fatta. Terzo elemento fondamentale di questa giornata è io non appartengo a nessun partito ha detto Conte mentre tutti noi pensavamo che Conte fosse diciamo un po' l'espressione del Movimento 5 Stelle almeno un po' più del 5 Stelle che della Lega. Poi l'altra cosa che ha detto sono le critiche che ha rivolto nei confronti dei ministri che si occupano di altre cose, pensiamo ad esempio al ministro degli interni che si occupa di flat tax o di quei ministri che invece non dovrebbero occuparsi di immigrazione e che invece di immigrazione ne dicono una dietro l'altra. In questo senso è stata veramente apprezzabile la battuta di Conte in questo caso da italiani ma indipendentemente da come lo pensiamo nei confronti di quella giornalista tedesca che continuava a insistere dicendo che l'Italia era responsabile delle morti in mare che ci sarebbero state ora nel Mediterraneo e Conte su quello ha detto non si permette di dire una cosa di questo tipo. Questa è la sintesi di un discorso politico il primo forse addirittura con delle domande molto libero fatte da un premier che ha voluto affermare il fatto di essere un premier. Altra considerazione in genere nella ortodossia degli anni diciamo d'oro della Repubblica Italiana questi discorsi si fanno in Parlamento e le fiducia non si chiedono ai due leader di partito che sono anche vice premier ma si chiedono ai parlamentari. Insomma questo discorso perché non lo ha fatto alla Camera? Il motivo è molto semplice perché probabilmente in realtà le maggioranze in questo momento sono molto più fluide c'è timore di alcuni di andare a casa c'è timore di altri invece di non andare subito alle elezioni e non portarsi a casa quello che i sondaggi dicono e cioè che oggi la Lega arriverebbe al 35%. Ultima cosa chiede Conte che i due leader gli diano una risposta secca veloce immediata se vogliono continuare e la risposta ovviamente è subito arrivata da Salvini che ha citato dal suo dossier e ha detto sì se facciamo questo quest'altro e quest'altro perfetto ma Conte ha chiesto una cosa di più comportamenti e atti conseguenti. Ecco su questo bisogna un po' vedere quali devono essere gli atti conseguenti. Veramente credete che la Lega di Salvini e il Movimento 5 Stelle di Di Maio smetteranno di fiare dichiarazioni a mezzo stampa? Veramente crederete che sull'immigrazione Salvini mollerà la presa e farà soltanto il ministro degli interni? Veramente credete che Di Maio sulle grandi battaglie della suo movimento smetterà di dare una comunicazione stampa? E veramente potete immaginare ad esempio che il presidente Fico della Camera non dedichi ai Rom e ai migranti la festa della Repubblica e in questa maniera getti un sasso enorme, pesantissimo nello stagno? Insomma, nelle prossime ore capiremo se quello di Conte è semplicemente una dichiarazione io esisto, smettetela di far casino o avrà effettivamente un effetto calmierante nei confronti di un governo che è fatto da due anime, la cui anima quella della Lega forse non vede l'ora di votare e l'altra quella del Movimento 5 Stelle sembra preoccupata di fare questa alleanza con un partito che gli ruba voti. Ciao!